Dottoressa Di Michele, qual è il ruolo della nutrizione nel percorso riabilitativo di un paziente con fibrosi polmonare? È fondamentale, è un argomento di grande attualità scientifica per cui se ne è parlato sempre molto poco nel passato. In realtà il ruolo della nutrizione comincia a diventare un hot topics, ci saranno tantissimi studi nel prossimo futuro. Partire con una diagnosi di fibrosi polmonare, vuoi che sia idiopatica o una fibrosi polmonare progressiva, significa comunque dover iniziare a studiare bene il paziente anche da un punto di vista nutrizionale perché avere una buona nutrizione significa avere una buona forza muscolare, sappiamo quanto sia importante una forza muscolare adeguata per assicurare una adeguata ventilazione. Dottoressa Di Michele, qual è l'impatto della nutrizione sugli eventi avversi gastrointestinali dovuti all'impiego di Nintedanib? Sappiamo che il Nintedanib è un farmaco eccezionale nel ridurre la progressione della fibrosi. Come tutti i farmaci però a questi effetti positivi sono associati anche degli effetti negativi. Tra questi dobbiamo ricordare la tendenza ad avere nausea, vomito, inappetenza e la diarrea. Quindi un adeguato approccio nutrizionale è fondamentale per poter fronteggiare questi eventi avversi. La figura del nutrizionista quindi diventa a pieno titolo la figura di uno specialista che deve collaborare con l'opneumologo e anche il fisioterapista respiratorio riguardo il mantenimento di un'adeguata forza muscolare per l'ottima gestione di questi pazienti. Ricordiamo che sono pazienti che dovranno fare queste terapie per tutta la vita quindi un piano nutrizionale ad hoc personalizzato che tenga conto anche di eventuali patologie e comorbide porterà il paziente ad una terapia nel più lungo termine nella migliore gestione.